Ciao a tutti, sono Yume e sono qui per farvi un enorme annuncio, allora sarò al Conno di Napoli, il mio prossimo live, dal 28 aprile al 30 aprile compresi, quindi da venerdì a domenica, e avrò tre concerti, un concerto a giorno in Asian Village, tutto in Asian Village, con un stage, praticamente porteremo tutte le idol italiane, o comunque il gran parte delle ragazze che si sono avvicinate a questo tipo di musica nell'ultimo periodo, a campare in Asian Village, l'evento durerà due ore ogni giorno, gli orari potete trovarli prossimamente sulla mia pagina Facebook, così come le scalette, gli outfit, e tutte diciamo le altre informazioni super secretissime, però voi ricordatevi di venire praticamente in Asian Village durante il Conno per tutti e tre giorni, dal 30 aprile a domenica 30 aprile, per venire a sentire i miei concerti, inoltre avremo anche uno stand, idol stage avrà uno stand dove sarò disponibile per vendere alcuni gadget e per la cosa che fate, per incontrare tutti voi, quelli che vogliono parlare, di me, e che vogliono parlare degli auguri, perché il 24 aprile non è compilato, quindi assolutamente come regalo quando vi viene dal mio concerto, vi aspetto al commento, bye bye!